Ciao ragazzi, oggi parliamo di allenamento per i glutei e il tema di oggi è gli elastici vanno utilizzati oppure no? Vanno inseriti nel programma di allenamento oppure no? Ecco, nel mondo del fitness ci sono due mondi, due pareri completamente differenti. C'è chi dice che gli elastici siano inutili, quindi tutti quegli esercizi di abduzione, le camminate laterali, le estensioni, gli slanci indietro della gamba con elastici, sono completamente inutili e sono da prediligere tutti quegli esercizi multiarticolari di forza come squat, affondi, stacchi per far crescere i glutei. Poi c'è chi dice, chi afferma che invece è meglio utilizzare gli elastici, è meglio utilizzare tutti quegli esercizi di attivazione che vengono fatti per attivare i glutei, per lavorare i glutei e bastano quelli per ottenere risultati. Bene, come al solito la verità sta nel mezzo. E perché questo? Perché le fibre del tuo muscolo sono costituite sia da fibre veloci che da febbre lente. È un muscolo molto grande, è un muscolo che presenta tantissime fibre muscolari e di conseguenza bisognerà allenarlo con diversi stimoli metabolici. Quindi saranno da prediligere allenamenti lunghi con ripetizioni lunghe di resistenza metaboliche e esercizi con ripetizioni brevi, corte, con ripetizioni da 5, 6, 8 ripetizioni con un carico molto elevato. Quindi la verità sta nel mezzo, bisogna sicuramente implementare gli elastici nel programma di allenamento e soprattutto mantenere tutti quegli esercizi di forza per far sviluppare la massa muscolare, per prediligere quella che è l'ipertrofia muscolare. C'è da fare un appunto, un appunto molto importante a favore degli elastici. Oggigiorno la sedentarietà, il fatto che stiamo tante ore seduti, ci ha portato ad avere uno scompenso posturale. La rettilinizazione della lombare è cosa comune nelle donne. Abbiamo una scazza mobilità d'anca e di conseguenza nella vita di tutti i giorni la nostra capacità di attivare nel modo corretto i glutei si è via via abbassata. Di conseguenza quando andremo a fare esercizi come affondi, squat, la nostra capacità di reclutare il gluteo sarà molto limitata ed è per questo motivo che io personalmente con le donne che seguono il coaching inserisco sempre e tanto l'utilizzo di elastici, soprattutto all'inizio. Perché c'è quel fenomeno che prende il nome di amnesia glutea che è comunissimo, ovvero le ragazze hanno difficoltà nel reclutare il gluteo quando eseguono un affondo ad esempio. E quindi attivare con elastici il gluteo in maniera massiccia facendo tante ripetizioni, andando a stimolare bene il gluteo andrà a favorire quelle che sono le connessioni tra la mente e il muscolo. Andrà a facilitare quello che è la trasmissione neurale che porterà alla contrazione del muscolo e di conseguenza accoppiata a un riequilibrio della postura, quindi ad esercizi posturali, via via nei mesi la donna riuscirà nello squat, nell'affondo ad utilizzare bene il gluteo e di conseguenza a portare a casa dei risultati. Cosa che sarebbe completamente diversa se invece approcciamo l'allenamento subito sotto il punto di vista di ipertrofia, di forza, facendo esercizi come squat, affondi. Perché? Perché la donna non è capace di attivare bene il gluteo. La mente non riesce a mandare gli stimoli al muscolo nel modo efficace e le fibre non si riescono ad attivare tutte nel modo giusto, anche se magari aumentano i carichi. Perché? Perché vado a reglutare in maniera massiccia il quadricipite ed è di conseguenza il motivo per cui poi la maggior parte delle donne che allena le gambe in questo modo, quindi facendo tanti squat, tanti affondi, va a sviluppare la coscia e poco il gluteo. Mentre se una donna ha una buona postura, ha una buona attivazione neuromuscolare del gluteo, riuscirà con quegli esercizi a stimolarli nel modo corretto. Quindi alla domanda gli elastici sono utili, sono strautili, sono da utilizzare, da prediligere in un allenamento in maniera massiccia all'inizio e nel mentre dell'allenamento e poi un programma di allenamento fatto ad hoc dovrà presentare anche degli esercizi, uno o due esercizi di forza, degli esercizi in cui andrò a stimolare le fibre con carichi elevati, ma questi esercizi devono essere pochi, pochi fatti nel modo corretto dopo aver fatto una stimolazione, un'attivazione del gluteo massiccia. Ecco che se impostiamo il programma di allenamento in questo modo non avremo più la problematica tipica che si ha oggigiorno, quella di sviluppare in maniera massiva le cosce quadricipide. Il 90% delle donne che inizia ad allenarsi inizia ad allenarsi con il desiderio di snellire e purtroppo va ad ottenere il risultato opposto proprio perché l'approccio di molti trainer è alla vecchia maniera ed è un approccio che non tiene conto dello stile di vita, della postura della donna e dell'incapacità della loro mente di attivare bene il gluteo. Quindi in una prima fase è essenziale questa attivazione, questo miglioramento neuromuscolare, questo adattamento neuromuscolare e poi in una seconda fase andiamo giù pesanti di peso e andiamo a migliorare quella che è l'ipertrofia. Detto questo ti ricordo di mettere mi piace, commentare, fammi sapere cosa ne pensi, se ti è stato utile questo video condividelo con altre ragazze. Noi ci vediamo al prossimo video e come al solito al tuo successo!